Con questo tutorial parliamo della moltiplicazione tra monomi. Allora, iniziamo da questo esercizio. Allora, devo fare la moltiplicazione di 2a per meno 3ab, come devo fare poi la moltiplicazione di meno a alla seconda per meno b. Qui in mezzo non c'è nulla, quindi devo moltiplicare per meno b. Poi devo aggiungere 6a alla seconda b. Allora, quando devo fare una moltiplicazione inizio prima con il segno, quindi qui non c'è niente, quindi è più, più per meno fa meno e scrivo meno. Poi i numeri, 2 per 3 fa 6 e scrivo 6. Infine moltiplico le lettere, a per a fa a alla seconda e quindi scrivo a alla seconda e poi ricopio b. Vediamo l'altro pezzo. Allora, prima il segno, meno per meno fa più. Essendoci qui un segno più, scriverò più. Poi i numeri, i coefficienti sono 1 e 1, quindi dovrei scrivere per ora 1. Infine le lettere a alla seconda per b fa proprio a alla seconda per b, più 6a alla seconda b. Ora posso fare la somma di questi monomi. Sono tutti simili e mi rendo conto che questo qui e questo qui sono monomi opposti e li posso semplificare. E allora alla fine ottengo a alla seconda b. Vediamo quest'altro esercizio. Allora, devo fare prima la moltiplicazione di meno xy per meno 3xy alla seconda e poi questa moltiplicazione per questo. Allora, il primo termine lo ricopio tale e quale, meno x alla seconda y alla terza. Ora vedo qui subito qual è il segno. Meno per meno fa più, qui di fronte c'è più e allora scriverò più. Poi, vediamo i coefficienti. Qui c'è 1, qui c'è 3 e allora scriverò 3. Poi passa alle lettere. x per x fa x alla seconda e poi y per y alla seconda fa y alla terza. Ora vediamo quest'altro termine, quindi meno per meno fa più, con il segno meno di fronte farà meno. I coefficienti sono 1, 1 per 1 fa 1, quindi per ora devo scrivere 1. Moltiplico le lettere, scrivo prima x alla seconda e poi y alla seconda per y fa y alla terza. Mi rendo conto che tutti questi monomi sono simili tra di loro e allora li posso sommare. Quindi meno x2y3 più 3x2y3 meno x2y3 farà 3 meno 1 meno 1 e quindi 3 meno 2, cioè 1 x alla seconda y alla terza. Diciamo che qui l'1 è inutile scriverlo. Vediamo questi altri due esempi. Allora iniziamo da questo pezzo. Allora vado prima a sistemare il segno. Meno per meno fa più e allora vado a scrivere più. Poi devo moltiplicare tra di loro i numeri. Due terzi per 3 posso semplificare questo 3 con questo 3 ed ottenere soltanto 2. Poi le lettere x per qui non c'è la x e allora scriverò x e poi y per y alla seconda fa y alla terza. Ora devo fare quest'altra moltiplicazione. Qui c'è più, qui c'è meno, più per meno fa meno e allora scrivo meno. Poi 4, il coefficiente di qui è 1, quindi 4 per 1 fa 4 e scriverò meno 4. Poi moltiplico le lettere x per x, x alla seconda, y alla terza perché y alla seconda per y, 2 più 1 fa 3. Ora vediamo l'ultimo pezzo. Meno per meno fa più, qui c'è più e scriverò più. Moltiplico i numeri, 3 per 2 fa 6, x alla seconda, y alla terza. Cioè sono andato a ricopiare queste due quantità. Ho messo prima x alla seconda e poi y alla terza. Ottengo quindi questi tre monomi. Mi rendo conto che questo e questo sono simili tra di loro perché ho x2, y3, x2, y3, mentre questo monomio non è simile agli altri due. Allora questo pezzo lo ricopio tale quale, 2xy alla terza, mentre qui posso fare la somma. 6 meno 4, 2 più 2x alla seconda, y alla terza. E termino l'esercizio. Vediamo quest'altro esempio. Allora, meno per meno fa più. 2x alla terza, y alla terza. Ho fatto y per y alla seconda, y alla terza. Poi, vediamo quest'altra parte. Meno per più fa meno, ma qui c'è un più. E allora vado a scrivere meno. Poi un terzo per 3 fa 1 perché mi posso mettere anche di lato e scrivere un terzo per 3, cioè semplifico e ottengo 1. Quindi per ora qui dovrei scrivere 1. Vediamo le lettere. x alla seconda per x fa x alla terza ed infine y alla terza, moltiplicando y alla seconda per y. Questi due monomi sono simili, li posso sommare e ottenere x alla terza, y alla terza, perché ho fatto 2 meno 1 e quindi scrivo 1, x alla terza, y alla terza. Vediamo ora quest'altro esercizio. Allora, prima i segni. Meno per meno fa più. Poi devo moltiplicare i numeri. Un mezzo per 4 verrà 2 perché viene 4 mezzi, cioè 4 diviso 2 fa 2 e scrivo 2. Poi moltiplico le lettere. Alla seconda per a, per a verrà. Alla seconda per a, alla terza, alla terza per a, a alla quarta. x alla seconda, perché non mi devo dimenticare questo termine. Poi vediamo qui. Meno per più fa meno, per più rimane meno. Poi devo fare la moltiplicazione di due terzi per tre quarti. Magari all'inizio uno si può mettere anche di lato e scrivere due terzi per tre quarti. Allora, 3 e 3 li posso semplificare. Come posso semplificare 4 e 2? Quindi scrivo qui 1 e qui ci metto 2 e ottenere un mezzo. E allora scrivo qui un mezzo. Poi moltiplico le lettere. A alla terza per a fa a alla quarta, x alla seconda, perché ho fatto x per x. Quindi 1 più 1 fa 2 e scrivo 2. Questi due monomi sono simili tra di loro e allora li posso sommare. E allora scriverò minimo comune multiplo 4 a alla quarta x alla seconda meno a alla quarta x alla seconda. 4 meno 1 fa 3 e allora 3 mezzi a alla quarta x alla seconda. E termino l'esercizio. Vediamo quest'altro esempio. Allora, più per meno fa meno. Poi un quinto per 20 vuol dire scrivere un quinto per 20, semplifico e ottengo 4 e quindi qui scrivo 4. Poi a per a fa a alla seconda, x alla terza per x alla seconda fa x alla quinta ed infine mi rimane questa y che la vado a ricopiare. Qui meno per più fa meno, con un segno meno farà più. Poi numeri due terzi per 3, vuol dire scrivere due terzi per 3 e ottengo 2 e quindi scrivo 2. Poi a alla seconda qui non c'è nient'altro e allora vado a scrivere a alla seconda. x alla seconda per x alla terza, x alla quinta ed infine y. I due monomi sono tra di loro simili, allora li posso sommare. meno 4 più 2 fa meno 2 a alla seconda, x alla quinta, y. Vediamo questi altri due esercizi. Allora, prima il segno, qui è più, qui è meno e qui è meno, quindi meno per meno fa più e allora sicuramente dovrò scrivere più. Poi un settimo per 7 per 2. Se voglio mi metto di lato e scrivo un settimo, un settimo per 7 per 2. 7 e 7 li semplifico e mi resta 2 e scrivo 2. Poi moltiplico tutte le lettere, x alla terza per x fa x alla quarta. C'è un'altra x e ottengo x alla quinta. Poi c'è un y alla seconda e qui un y alla seconda, quindi y alla seconda per y alla seconda viene y alla quarta. Poi ho un z alla seconda e scriverò per z alla seconda. Ora vediamo quest'altra parte. Prima sistemo i segni. Meno per più fa meno, per meno fa più. Poi sistemo i numeri. 4 per un mezzo viene 4 mezzi, cioè 2. Poi le lettere. x per x alla seconda fa x alla terza, per x alla seconda fa x alla quinta. Quindi ho sommato tutti gli esponenti. 1 più 2 più 2 più 2 e quindi fa 5. Poi la y. y per y alla terza fa y alla quarta. Infine ho z alla seconda che lo vado a ricopiare, z alla seconda. Questi due monomi sono tra di loro simili e allora basta sommare 2 più 2 e ottengo 4x alla quinta, y alla quarta, z alla seconda. Vediamo quest'ultimo esercizio. Allora, prima il segno. Più per meno fa meno. Poi i numeri. 2 per 1, 2. A alla terza, perché è a alla seconda per a alla 1. Quindi 2 più 1 fa 3. Poi vediamo quest'altra parte. Più per meno fa meno e scrivo meno. E devo moltiplicare poi due terzi per 3. Due terzi per 3 fa 2 e quindi scrivo 2. A per b alla terza, perché questa a l'ho ricopiata, b per b alla seconda, b alla terza. Quindi 1 più 2, 3. Poi ho a b alla terza, che lo vado a ricopiare, più a b alla terza. Ed infine l'ultimo pezzo. Meno per meno fa più, un terzo a alla terza. Ora, qui devo sommare i monomi simili tra di loro, che sono questo con questo e poi questo con questo. Meno 2 alla terza più un terzo, quindi faccio il minimo comune multiplo e andrò a scrivere 3 meno 6 più 1 A alla terza. Questo 6, questo meno 6, deriva dal fatto che ho fatto 3 diviso il denominatore che è 1, che fa 3, per meno 2 fa meno 6. Mentre questo 1 è questo numeratore. Poi devo fare meno 2 A b alla terza più A b alla terza verrà meno A b alla terza. Ed infine meno 5 terzi A alla terza meno A b alla terza. Con questo esempio termino questo tutorial sulla moltiplicazione dei monomi. Allora, qual è il principio base per fare una moltiplicazione? La prima cosa che devo fare è sistemare i segni, poi fare la moltiplicazione dei numeri ed infine moltiplicare tra di loro gli esponenti delle varie lettere.